Trappola, trappola, trappola! Oh 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 oh! No vabbè! Come questa maniera di Touss! Signori! Vi ricordo che se volete shoppare skin o vébux di Fortnite qui sotto potete inserire il codice creatore EXECTOR in basso a destra Una volta convalidato, così facendo con i vostri futuri acquisti mi potete supportare E frattumente a sua volta riuscirà a mettere in pallo dei regali fantastici da dare a qualcuno di voi quindi grazie mille a tutti i bomber che useranno il codice creatore Vi mando un bacione e vi farà pagina! Ciao tutti ragazzi, sono EZECTOR e signori Siamo tornati qui come sempre carichi belli attivi con Michael, un nuovo appuntamento della serie di Oltra Quindi pollicioni in su, commentone, iscrivetevi, naturalmente se ancora non avete fatto tutte queste cose Vando un salutone particolare a Marco Schinco, l'ultimo bomber come vedete che ha scioppato con il nostro codice creatore Simufratma, e bene sì signori, oggi voglio fare una cosa un po' diversa Scendiamo a Tilted, premesso che questa season non mi sta facendo impazzire, tra l'altro L'Epic Games, per farsi perdonare perché ha capito che io li prenderei a calci in culo Mi ha regalato questo deltaplano perché ero presente all'evento appunto della season 9 Scemo io che quel giorno speravo e pensavo potesse venire a fare una season della madonna Fa schifo Di conseguenza concentrati perché Tilted è diventato veramente, che poi non so perché ho messo il gioco in inglese ultimamente C'è uno qua sotto, guarda Lui c'è, sta dal pompa Strano che c'è dal pompa Anonymous, quindi chiede a mamma se sa chi sono gli Anonymous Mamma conosce tutti eh Vai, è strano che c'è dal pompa Allora, io scendo e non lo trovo mai Gli altri sempre Devo essere sincero e dirvi che Tilted Cioè non mi fa neanche schifo Semplicemente non si loot e non si farma bene perché ormai è un labirinto Mi fa schifo tutto quello, tutto il resto Cioè i tubi d'aria, guarda i tubi d'aria, guarda che schifo questi tubi d'aria Io so che voi la pensate come me Bomber eh Qua c'è gente Non capisco dove sta PIG Amica avevo letto pig Ma io Vabbè Ehheh Pensa mamma di darti il nome pig Sono sbagliata Perché secondo me era il suo soprannome Vabbè basta Due kill Cioè sicuramente l'altra gente Io l'ho sentito un altro eh È che devo capire Io sì Io Oh sento solo passi A Tilted Prendi, prendi questa K blu Facciamo l'upgrade del nostro loot Ho fatto anche una rima Bella zio Queste ragazzi sono le kill più belle in assoluto Cioè ma proprio Easy Ma non c'è neanche buildato Ho fatto niente Si è rassegnato Altra cassa A me servirebbe uno scudone No Purtroppo Un altro farò E c'è Ma quanta gente c'è Sali, 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 sali Ho sentito qualcuno Per sicurezza Noi però andiamo su Continuiamo a salire Prendiamoci l'altè Oh minchia Oh una trappola Adesso mi arriva una barrettata incredibile Oh scendiamo C'è qualcuno qua sotto? No Invece sì Invece sì Lo sai vero che chi spara dall'altro C'è il pisello piccolo Adesso ti vengo a prenderla Adesso ti vengo a prenderla Ecco ora escono tutti Ha sparato uno Sparano tutti Giusto Maronna mi Non so neanche dove sto andando Io non so neanche dove sto andando Se abbiamo visite Sopra di noi Anche se non capisco bene dove Secondo me prima mi ha sparato da qua Ma è qui signori Vieni vieni Oh sono i due Guarda mi fotte la kill Dai che one shot Dov'è? Non posso mettere la trappa Ve lo trapparlo ma non posso Ne armi il muro C'è già l'altro? Eh calla Eh calla Ma adesso se ti prendo a schiaffi ti faccio diventare un gongorzola Stai buono Io sono i due Uno mi ha spartato da un... Che loot Sai che ho questo Io me lo sparo Vai vai Mi sparo il cespuglione Così eri che abbiamo Un hit parato Questo qua ci sta pushando eh Io uso la shadow Si sta sparando con un altro Ma dove sono? Io non lo riesco a capire Questo Eccolo qua L'ho visto L'ho visto L'ho visto Adesso l'hanno Mica adesso che l'hanno sistemato Sto pompa non scherza eh Ovvio preferisco sempre quello del nonno Deve che mi spari 24 ore Qua c'è sua mamma Batte 24 ore Ah qua dentro c'è morto il tipo O no Intanto c'è un'era blu Me lo becco Sopra di me c'è ancora Eh calla Ma lo sapevo Cioè lui è lì dall'inizio della partita Dall'inizio della partita Questo qua sta la sopprino Non ho ancora capito Ma zio Ruggero Volevo dare una vita qua Dovevo anche fare un po' di maz Perché ne ho pochi 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 C'è qualcuno nel tubo Bello Ho fatto solo un hit Uno Una mira che fa schifo Ancora Questo è un altro Ma lo avete rotto Ma lo avete rotto Come ti permetti Schifoso Io non ho più su questo Vieni qui qua Zio ma ti conviene spararmi secondo me Aia Aia Ma che mira ho Oddio Ma zio è buonone Via 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 Minchia mi ha fatto malissimo Non tanto uno da lontano Ma Minchia mi ha laserato Quello là Io fratello se ti becco Ti faccio diventare Un Grissimbo Te lo giuro 5 kill Io direi di avviarci Verso la safe Che questa è la seconda Ed è anche quella più veloce Sta venendo tutto sommato Una partita decente Siamo ancora in 26 Quindi Se tutto va bene Possiamo anche provare a fare Doppia cifra di kill Manco a farlo apposta Ho parlato Non trovo più Nessuno Questo qua invece però l'ho sentito L'ho sentito zio È da un'ora che mi stai dietro Chiaro ma cos'è l'arco Oh mi ho derivato Legolas Direttamente dal signore degli anelli Ma vedi sto pischiello Bello bello Allora se mi prendi con là Cioè hanno tolto il pompa del nonno Non hanno tolto l'arco Che è una cancrata incredibile Quest'arma Guarda zio che te lo fico Oh te lo sbatto Sì per il buco del Bravissimo bravissimo Ciao fratello Che loot che avevi Cazzo sei oh Un rifornimento Un'armeria Ce n'è un altro Ce n'è un altro Mi do sistemare un attimo il loot Ma ma raga guarda che armi ho È qua sotto Mi sta pushando Dattemi due secondi Non è che c'è il dino Sono mortissimo Eh vabbè sto qua è bravo Sono mortissimo Dove sta? Sopra sotto Ok va bene Sono morto È stato bello Oddio Oddio Con il risciacquone Oddio Che cazzo Arriva la tempestocis Via No raga cosa ho fatto Dammi il baretoro Vai che loot che aveva anche Madonna Io vi giuro Che ero convinto di Di non fa Qui ci ho tirato due trappole Alla velocità della luce Proprio Entriamo in safe Ho visto che c'è gente Sia a destra che a sinistra Spara un camper veloce Sperando che Ecco vedi Davanti a noi si stanno Laserando Questo qua mi pusha Giustamente Perché fratto Mo' io non ci può mai chitare Ma che Perché diti Perché diti fra Vieni vieni che ti pianto Un'arcata Che ti faccio diventare Un violino Ecco Alla l'altro E niente Oggi vai Oggi Io non riesco Via Jump E chi sei visto Sei visto Entriamo qua dentro Mi sparo un altro Farò No Sai che ho fatto una cavolata Forse ce n'era uno qua fuori Vabbè Ormai l'ho messo Non era neanche fondamentale Perché non mi mancava Tantissima Minchia Ti giuro che se ti prendo Oh my god Eh vabbè Trappola 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 No vabbè Tu mi puoi Guarda di Twitch Ciao Twitch YouTube 1 Twitch 0 Porco 2 Raga Ma che cacchio sto facendo Il king delle trappole Anche questa bella bella Il bello che poi Ne ho messe proprio Due di trappole In modo da essere sicuro Appunto che Non riuscisse A sopravvivere al fight E là c'è uno con la girosfera Questo qua non mi sembra fortissimo Eh Infatti io provo anche a pusharlo Dai Siamo in 12 Abbiamo 8 kill Sta venendo fuori veramente Il partitone Ma visto eh Però ripeto Non mi sembra Fortissimo E sotto Mi ha preso le ground noi Cioè che ce l'ha regalato Perché non è che ho fatto Chissà che cosa eh Ciao frate Ciao zi Aia la tempesta La tempesta non l'avevo calcolata Aiuto ziaciuga Ciao frate Ciao zio Grazie Arrivederci per la kill Posso manco lutarlo Cioè in realtà potevo lutarlo Ma Non voglio prendermi troppo Troppi danni Troppi hit Dalla tempesta E che non c'abbiamo Che due balle oh Spieti questo Spieti l'arco Azzotto Vieni qua Vieni qua Dai che Ecco Io quando faccio ste cappellate Oh quanta vita c'ha questo Ma è morto No Ah ma ha dato la kill Ciao bomber Grazie mille Siamo a 10 Se li faccio tutti 8 Io faccio il record Cioè batto il mio record personale Andrea 18 Devo assolutamente trovarmi Qualcosa per la vita Qua c'è un airdrop Ah ma ci sarà sicuramente qualcuno Da quel drop là E infatti Guarda T'ho visto fra T'ho visto che c'è lì dietro No allora Anche questo Guarda qua Che io non so se lui m'ha visto O meno Io però dal drop ci devo andare Vai via A tetto assolutamente che Eh giustamente la cosa Eh sotto devo andare Sotto Ecco che spam Ecco che spam C'è il medikit Quel medikit qua per me è oro Ma non so cosa lasciar giù Perché Mi sta pushando il bomb Anche questo Si ha regalato le ground Bella lì Grazie per te che sei sceso Io invece Col cavolo che scendo Arriva anche la tempesta Sto sopra la montagna Così sono anche in alto Non so neanche dove sono Eh chi Chi fatta dai Easy easy Non posso neanche farmi Oh ce farò Si che culo Che culo Che culo Che culo Se no il medikit Non riuscivo a farmelo Raga Cioè devo lasciare gli shieldini E sei shieldini per il medikit Anche se non abbiamo vita Non le avrei Oh ma che partita è bomber Ma che partita stanno facendo Devo provare ad intrappolare un altro Mi chiesto il tuo video Li sto intrappolando tutti Chi ha Oh basta C'è l'arco E sparano a me Niente Il fallo non me lo posso fare C'è la jump Qua non la posso mettere Oddio Mica se mi prendeva con l'arco Quelli l'ho visto che si stanno anche pushando tra di loro Perfetto Che cosa faccio No Ti prende anche un Ragale C'è anche il fallo Oddio C'è qualcuno di lì dentro Non lo so Vabbè io sono un folle Sono un folle criminale Mi sono rifullato la vita Perfetto Questo qua Mamma mia quel biscottino lì Come lo mangerai Tipo c'era proprio nel latte Due sono sicuramente lì Ne manca uno E calla Guarda che se mi prendi No ho sbagliato No 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 Non devo scendere Se no sono morto Bisogna stare sulla montagna E metti là fuori la testa fra Oh Trappola Trappola No 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 Non posso morire Non posso morire Non ci credo Non ci credo No regala Madonna mia Che cacchio di partita Ma cosa facevano dietro Voglio vedere chi vince tra questi Ma avevano 12 kill Potevano Potevano fare tipo 14 14 in totale Ho pure voluto sfottere Capito Non avevo visto la tempesta arrivare E ha vinto sto qua Quante kill c'ha? 5 Eh 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 Vabbè dopo questa Dopo questa Questa partita è andata così Rimane comunque una grandissima partita Io mi sono divertito tantissimo Siamo cesi a tilt 12 kill Diverse volte abbiamo anche Intrappolato dei tipi Quindi il king delle trap Come sempre Pollicione Commentone Mi raccomando Da Prattomete è tutto Demanese Ci vediamo inizio per altri video Un salutone Un abbraccione Ciao capioni Ciao capiti Ciao capiti So besote Ciao capiti Sì Grazie.